L'isola dei famosi, Avengers maschera gli autori, scandalo a pomeriggio 5 Scandalo droga all'isola dei famosi 2018, Avengers maschera gli autori in diretta tv Lo scandalo droga all'isola dei famosi 2018 continua a tenere banco nella trasmissione pomeriggio 5 condotta da Barbara D'Urso Dove abbiamo visto che anche oggi si è tornato a parlare della bufera scoppiata due settimane fa in diretta tv grazie ad Avengers L'ex naufraga del reality show era in studio Barbara D'Urso per ribadire la sua versione dei fatti e si è lasciata andare a delle nuove confessioni clamorose Che potrebbero mettere nei guai la produzione e gli autori della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi Buffera droga all'isola dei famosi, autori sotto accusa Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Avengers ha mosso delle gravi accuse contro la produzione affermando che i concorrenti che vengono eliminati di volta in volta dalla trasmissione non direbbero la verità su Francesco Monte e sullo scandalo droga perché verrebbero influenzati dagli autori In particolare, Avengers ha dichiarato in diretta tv a pomeriggio 5 che gli autori farebbero presenti ai concorrenti eliminati del grande casino combinato da Avengers con le sue affermazioni shock sulla droga e Francesco Monte, aggiungendo poi che il pubblico, che segue la trasmissione ce l'abbia con lei Insomma, per Avengers questo sarebbe una sorta di stratagemma adottato dagli autori dell'isola dei famosi per spingere i vari eliminati a tacere e quindi a non dire la verità sull'accaduto La confessione bomba di Avengers oggi a pomeriggio 5 Ma non è tutto, perché, nel corso della nuova ospitata di oggi a pomeriggio 5, abbiamo visto che Avengers ha annunciato in diretta tv da Barbara D'Urso che ben presto verranno fuori delle nuove clamorose rivelazioni su questo scandalo droga, le quali potrebbero essere quelle che porterebbero a gala la verità assoluta sull'accaduto Langer, quindi, promette nuovi colpi di scena e avverte che nei prossimi giorni ci saranno nuovi colpi di scena, che lasceranno senza parole gli spettatori da casa, che seguono l'isola dei famosi in tv Intanto anche striscia la notizia per la nuova puntata del programma in onda stasera su canale 5 Ettari avvertito che ci saranno delle nuove clamorose confessioni sul canna gate dell'isola Cosa sta per succedere? Verranno fuori tutti i nomi dei concorrenti immischiati in questa bufera senza precedenti? Vedremo quali saranno le novità nelle prossime ore e vi terremo aggiornati giorno dopo giorno su tutte le novità dell'isola, seguiteci